Salve a tutti qua, da Fabio, oggi c'è un nuovo video sbarbata. Prima di iniziare il video sbarbata vi auguro una buona domenica, ve lo sposto per usare un canale di youtube che si chiama Eros Reasato Tradizionale che lascio il link in descrizione, lascio il link in descrizione anche della pagina facebook dove faccio parte di amfettipazione, lascio il link in descrizione del sito di risorghi di Eliaf e lascio il link in descrizione del mio secondo canale dove parlo io oggi. Andiamo, basta così, va fatto anche se ho fatto della sua goccia ma lo facciamo lo stesso. Prebarba della Good Elf Smile del Fium Glory Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. secondo me il rasoio e altri pezzi lo sapete meglio di me questo qua non l'ho mai, ho portato altri rod si ma questa no ho un punto in più eh, ha solo un incanto ma niente colla, niente niente colla, questo è un punto a favore una cosa ottima ha costato da un punto senza che l'ho provata come crema usiamo la DZET KING aspetta, ho dovuto prendere questa perché la faccio da qua questa mi sei un po' indurita proprio come crema questa mi piace il pennello Gillette KING la monta è in giro, è solo per prendere il sapore e ammarrate un po' indurita molto bene sa crema chissà che ma qua è un po' mentolata non ci sta medaglione partito adesso non faccio pirla non ci sta non ci sta non ci sta un po dove uscirà le 19 non sto resistendo a mattina dirett king armato con new lord brattio un po dove uscolti facendo così la faccio ad esempio il giovedì e la domenica, il giovedì è quattro giorni quindi uso la stainless, è la domenica che due giorni e mezzo, uso una bella pratium, ci si sta adesso facciamo il secondo passaggio la domenica non 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 ma il bbs sul collo no mi irrito a me non mi frega se mi devo irritare o tagliare per raggiungere il bbs il bbs sul collo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci qua Grazie a tutti Ok Adesso 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 Non mi interessa guarda Adesso Facciamo così La sbarbata è venuta perfetta Queste Lord New Ultratin Sul Jet King hanno funzionato molto bene Molto bene Adesso ci mettiamo un po' di Delm Music Tutta la mente la mente mi si è comportata non bene di più Sono contento Sono contento Della sbarbata Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Attivate la campagna di notifiche Commentate e lasciate like Ci vediamo al prossimo video